l'indifferenza e rigettare il pensiero che... È dunque importante che possa proseguire lo sforzo per immunizzare quanto più possibile la popolazione. Ciò richiede un molteplice impegno a livello personale, politico e dell'intera comunità internazionale. Anzitutto a livello personale, tutti abbiamo la responsabilità di aver cura di noi stessi e della nostra salute. Il che si traduce anche nel rispetto per la salute di chi è vicino. La cura della salute rappresenta un obbligo morale. Grazie. 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 Grazie.